La quinta corsa al Cilidiano di Aversa ricorda Tommaso Sabatino, il Cavaliere Tommaso Sabatino è il clou del pomeriggio. Vede al via soggetti di quattro anni. Prima fila per Belgiacomino Park, Baucina Luis, Benedetta F.S., Bilo Jepston, Barba Carlo. Seconda per Big Freedom LF, si ritrae Barba Carlo. E alla chiusura delle ali, Bilo Jepston attacca Baucina Luis e Belgiacomino Park. Così in un'amen, Bilo Jepston leader su Baucina, Belgiacomino, Barba Carlo. Rimasta a largo, Benedetta F.S., il leader favoritissimo della corsa, ha percorso i 200 iniziali in 15 secchi. Adesso De Vivo comincia a giocare col cronometro, cosa non necessaria, secondo noi. Muove a largo Belgiacomino. 38 il quarto iniziale. Con Belgiacomino che va a gravitare ai lati di Bilo Jepston e si trascina Benedetta F.S. 600 in 46, ultima frazione in 15. Al passaggio davanti alle tribune, Belgiacomino ha accettato il ritmo del battistrada. che va a completare il primo giro nell'ordine del 1-1-3. A media di 1-16 e mezzo si viaggia in questa prima parte di gara. A lungo deciso adesso di Bilo Jepston a palo lontano. Belgiacomino deve essere richiesto. 1-16 e 3 il chilometro. Bilo Jepston in fuga, Belgiacomino cerca di aggirare Baucina-Luis che per ora tiene i piedi di dentro. Frazione di fronte in 14 secchi. Bilo Jepston per propria dimensione. C'è lotta per le piazze. Bilo Jepston, facile, mentre la lotta per le piazze vede Belgiacomino Park difendersi dal tentativo tardivo di Barba Carlo. 4-1-6, l'arrivo probabile d'ufficioso. Media probabile di 1-13-9. Senza stancarsi più di tanto. Una chiusa in 57 e mezzo per questo Bilo Jepston, un figlio di Timo Co e Tiffany Del Rio, pronto per altri palcoscenici, che potrebbero essere quelli francesi, almeno il prossimo anno. Siamo ancora un po' lontani, ma il suo team lo ha gestito in questo modo. e contemporaneamente c'è il ritorno in auge, il ritorno al successo dei colori di Paolo Capano, Marco De Vivo, sia al training che alla guida.